Allarme in sicurezza in centro storico a preoccupare i commercianti stavolta è la raffica di furti che si è registrata nei giorni scorsi nel cuore urbano di Piacenza. Stanotte i ladri si sono intrufolati nell'attività baboltì di via 20 settembre. I malintenzionati, probabilmente con una mazza, hanno sfondato la vetrina proprio in prossimità della cassa e hanno infilato un braccio e prelevato i pochi euro all'interno. Nei giorni scorsi invece erano stati presi d'assalto due negozi in piazza Duomo, sempre due furti con spaccata stesso modus operandi e così la titolare di uno dei locali danneggiati Eugenia Maserati del bar Principessa, nonché presidente dell'associazione cittadina vita in centro, chiede una maggiore presenza delle forze dell'ordine a fronte di una situazione che, a detta sua e degli altri associati, è in costante peggioramento. Allora tre spaccate in pochissimo tempo, in tre notti, sicuramente denota un allarme sicurezza. Come commercianti chiediamo, sicuramente più presidi, perché sarebbe un deterrente per queste bande che siano meno organizzate, io questo non lo so, ci saranno gli inquirenti che indagheranno, perché tutti abbiamo sport o genunce. E al tempo stesso telecamere che possono controllare le nostre attività. La situazione è in peggioramento negli ultimi mesi? Secondo me sì, secondo me sì, sta peggiorando. Le attività, tra l'altro, che arrivano da momenti anche particolarmente impegnativi, anche dal punto di vista economico, si trovano ancora più in difficoltà anche nel momento in cui subiscono questi danni, sia a livello economico che a livello di perdita di tempo, perché poi comunque magari l'attività va tenuta chiusa una giornata o due per ripristinare i vetri e anche a livello economico, perché comunque rubano denaro piuttosto che merce all'interno delle attività.